Un lettino pediatrico ed altri elementi di arredo per il reparto di chirurgia pediatrica dell'ospedale di Pescara sono al centro della serata di solidarietà promossa da Adricesta Onlus. Il profumo della solidarietà stellata, così viene presentata l'iniziativa, andrà in scena domenica prossima 22 febbraio alle ore 19 nell'hotel Villa Michelangelo di Città Sant'Angelo. A dirigere il reparto è il professor Pierluigi Lelli Chiesa. Si è riusciti con numerose iniziative, questa dovrebbe essere veramente quella conclusiva, ad avere un arredo in toto per il reparto. Arredo vuol dire non solo i lettini up to date, cioè quindi al passo con i tempi dei nostri piccoli degenti, ma anche delle poltrone letto per le mamme, i comodini che siano comodini, soprattutto che rispettano tutte le norme anche di sicurezza che sono attuali e sono diverse da quelle che c'erano quando sono stati comprati oramai parecchi anni fa. Cinque chef stellati che fanno squadra per un grande obiettivo. Nico Romito, Giuseppe Tinari, Marcello Spadona e William Zonfa e Nicola Fossaceca che qui esprime le sue emozioni. C'è possibilità di contribuire a un progetto così bello e importante innanzitutto e quindi siamo anche noi un mezzo per realizzare bene tutto. Nella serata stellata di domenica prossima la raccolta fondi sarà sostenuta anche dalla vendita di copie del libro Il profumo della neve antica, una favola scritta da Ugo del Castello. Questa è una storia che riguarda un fiore, un fiore che nasce in alta quota sulle montagne abruzzesi ed in particolare sulle montagne che circondano Roccaraso. Il titolo del libro è Il profumo della neve antica, il sottotitolo piccolo racconto di gnomi, magia e un fiore d'alta quota. Con un video messaggio Alessandro Preziosi, testimonial di tante iniziative di Adricesta Onlus, anche per questa non ha voluto far mancare il suo sostegno. Chi salva un bambino salva il mondo intero, non è una frase fatta, è una frase che dà senso alla vita. Carla Panzino, presidente di Adricesta Onlus, ci parla anche di un simbolico grande assegno. Ebbè sì, sarà come sempre l'assegno che in ogni manifestazione noi facciamo firmare ai nostri benefattori. In questo caso sarà Ugo del Castello con i cinque chef che firmeranno questo assegno e lo doneranno all'associazione. e quindi come sempre diamo trasparenza sui fondi raccolti e quando saranno inaugurate tutte le camerette daremo anche trasparenza sull'utilizzo dei fondi raccolti.